Buongiorno, eccellenza, buongiorno a tutti gli intervenuti, eccellenza, le do il benvenuto cordiale a nome anche del Rettore che purtroppo si scusa in questo momento ancora impegnato, ci raggiungerà dopo e la saluterà dopo, tra un'ora sarà qui da noi. E poi le do ovviamente il benvenuto a nome della Scuola di Relazioni Internazionali di questa Università, ringraziando per la sua presenza e disponibilità di intervenire che per noi è molto importante. La Scuola di Relazioni Internazionali è stata fondata da cinque dipartimenti per valorizzare e sviluppare maggiormente le competenze linguistiche, economiche, giuridiche, politico-sociali, storiche presenti all'Università Ca' Foscari. E grazie alla collaborazione dei colleghi docenti, dei dipartimenti e del Rettore riusciamo a organizzare lungo l'anno una serie di incontri ed eventi di tipo scientifico e culturale che noi reputiamo molto importanti perché amplificano la visione della nostra comunità universitaria sul mondo in trasformazione, migliorano e intensificano i nostri rapporti diretti con studiosi e protagonisti delle relazioni internazionali e perché i nostri studenti possono così confrontarsi direttamente con le personalità del campo che stanno studiando. Nella nostra serie delle Ambassador Lectures abbiamo già sentito l'ambasciatore britannico, quello brasiliano, quello sudcoreano, ma anche diplomatici italiani come l'ambasciatore Vattani che credo sia un suo amico e che mi ha incaricato di scusarlo per non poter essere qui oggi. Voglio aggiungere che oggi sono presenti anche gli studenti e docenti del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali che è uno dei dipartimenti della nostra scuola dove ha sede il Centro di Alti Studi sulla Cultura e le Arti della Russia che è diventato uno dei centri maggiori di diffusione della cultura e dell'arte russa in Italia. Sono presenti i docenti, studenti del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dove la scuola sede e dove si studiano la lingua, la letteratura e la storia russa. e farà piacere apprendere che lo studio russistico tra gli studenti del nostro Ateneo è una della area più in crescita. Lei oggi ci parlerà dei rapporti della Federazione Russa con l'Italia e l'Unione Europea ed è superfluo dire che questa è una tematica molto importante. Il paese che lei rappresenta è il più grande per estensione al mondo ed è uno dei protagonisti di primo piano della politica mondiale almeno dal XVIII secolo. Ma non contano soltanto la forza, direi, la forza oggettiva di questo suo paese, la sua importanza politica e strategica, le sue immense ricchezze minerarie ed energetiche. La Russia storicamente ha un ruolo di primo piano anche nelle scienze, nella cultura, nell'arte, insomma nell'immaginario generale in quanto ha espresso lungo i secoli pensatori, scrittori, artisti, scienziati, la cui opera si intrecciata profondamente e indissolubilmente con la cultura e il sapere europeo mondiale. Quindi io le voglio cedere subito con grande piacere la parola per apprendere cosa ci dirà dei rapporti della Federazione Russa con l'Italia e l'Unione Europea. Grazie. Grazie.